Ancora un incidente mortale sul lavoro a Vallese di Oppeano. La vittima è un operaio caduto dall'alto intorno alle 13 mentre lavorava nella sede della ditta di logistica Cablog in zona industriale. Sul posto sono giunti i soccorritori dal 118 con ambulanza e automedica ma per l'uomo dipendente di un'altra azienda non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente è al vaglio di Carabinieri e Spisal.